Stiamo trasmettendo in questo momento le votazioni, quindi siamo stati riammessi dopo le dichiarazioni di voto e le varie indicazioni dei delegati. Scusate, ci stiamo riprendendo proprio in questo istante le operazioni, chiedo un attimo solo. Poi passa all'ala. Lascio la parola, ci sono le operazioni di voto e vengono consegnate le cartelline a tutti i delegati. Dentro sono contenute delle schede che ovviamente vengono votate e poi queste schede vengono poste dentro l'urna. Scusate, 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 potete accomodarvi un attimo? Per favore, potete accomodarvi un attimo per favore, chiedo scusa, vi accomodate un attimo? Scusate, potete accomodarvi un secondo perché qui... Allora, hai votato Antonello? Eh? Come vado? La scheda ce l'ha lui. Ma no. Scusate. Come facciamo a votare se c'è la radio? Aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo perché qui se no... Chiedo scusa, per un minimo di tranquillità facciamo esaurire questi tre che abbiamo chiamato, poi chiameremo uno per volta, va a votare, posa la scheda e viene quello dopo, così almeno non ci sono caos. Facciamo finire questi cinque che abbiamo un attimo... Chi è questo? La scheda ce l'ha già presa? No, aspetta, 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 fagli esaurire. Sì. Fagli esaurire. Facciamo con Caligaro, facciamo finire perché abbiamo uno, vota, coso, quando ha finito di votare, passiamo al due. Questo Barbieri ha votato. Ecco, adesso va il voto Brienza. Devi passare a prendere la scheda. Passare dalla Cinzia per la scheda. Voti. Bevi d'acqua ha votato. Pensavo fosse più secco. Eh. E' bello sicuro. No, però dobbiamo fare il conto. Sì, sì, no, ma infatti in distributore non... Perché tu sai... Chi deve votare? Prevore, tanto, cosa vuoi che sia. Allora, Brienza... Allora... No. Dobbiamo fare l'anima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una sola. No, se mi ridai la pena sono più contento. Grazie. Grazie a tutti. De Logu, vieni qui. Ritira la scheda. Di Maio Brunella. Di Maio Brunella. Scusa, scusa. Prima qui a firmare. Hai ragione, ho sbagliato io. Ho sbagliato io, chiedo scusa. De Maio, De Maio. Adesso dovresti ritirare la tua cartellina, prendere la scheda. Di Tosto Pietro. Di Tosto, no, prima lì, firmi. Cartellina, ritiri la scheda. Fatano Raffaele. Prima qui, no, prima qui a firmare. Che bisogna rallentare un attimo così non si... Ecco qua. Scheda, eccetera, vado a votare. Di Tosto è finito. Di Tosto è finito, perfetto. Fiorillo Nicola. Fiorillo Nicola. Fiorillo Nicola. Prima là. Prima là. Grazie. Galletti Antonino. Eccolo. Dentro ci sono 10 euro, eh. Cartello, devi fermare. Devi fermare... Dentro ci sono 10 euro, eh. No, che cosa rubi? Fai un po' quello che vuoi. Poi. Galletti. Fatto? È sopra la scheda. Tu hai votato. Passare di qua, lo bisogna firmare. Galletti Lamberto. Dr. Un po' tutti scambi. Gallozzi Michele. Gallozzi adesso ti danno la scheda e poi devi rifirmare quando aspetta di andare a votare Giacovelli Avio prima la firma qui no Giacovelli no prima la firma qui ritiri la scheda Giuffrida Giovanni prima la firma no dove andate ragazzi ci sono le altre votazioni poi greco francesco greco francesco greco francesco e non so stai e ho capito è lì no prima firmi là per favore è tornata è tornata ma la mollo più Magnano di Sanlio Maurizio devi firmare lì no la penna io ho la mia è l'età no è l'astino è l'astino aspetta che ho occupato la cabina no è fuori la scheda come sono lenti come sono lenti firma sì vai e firma vai e firma vai ok firma un certo malinconico Giovanna martin stefania e anche in maniera molto vistosa ci hai anticipato hai guadagnato tempo Mastrandea Paolo prima firma dell'entrata schede Mazzoni Mauro no ma dentro non c'è niente non la si mette a leggere stava leggendo il contenuto del fascicolo Poi lo leggerà anche per le successive dagliela separata perché la gente confondeva a cercare la grande proprio fagliela proprio separata ah bravo oh bravo lui lo legge anche dopo allora chi siamo Morace Morace Carlo scusate Musa Leonardo chiedo scusa scusa ho chiamato due volte lo stesso no no io ho sbagliato no grazie il gettone vorrei di presenza che sono di moda in questo periodo Nardo Vinicio no prima di là a firmare l'entrata stai pure qui a votare no mi sembra non far troppi passi lì la scheda mi sembra che tu abbia già fatto la dichiarazione di voto anche se voti pubblicamente pace Carmelo pace Carmelo entrata scheda dove è andata se n'è andata no aspetta pace Carmelo palma diciamo si prepari si si prepari palma Francesca si prepari palma Francesca lo ripeto così almeno guadagno tempo la scheda questo farà il voto segreto paparo si prepari e venga paparo Sergio che va in cabina vota mi raccomando segreto l'entrata l'entrata Sergio Carlo Peretti Perini Angelo Massimo prima la firma se no non ti diamo la scheda mettiamo un attimo Ponzio Paolo adesso vedete cosa facciamo alla prossima che è preticinzia riprepari metti bene la cartellina è preticinzia devo fermarmi un attimo perché c'è un po' di si prepari preticinzia mi sono già messa mi sono messa a posto la mia cartellina mi chiedo prendere forzando aspettiamo un attimo faccio io fai il tutto io mi sono già presto si prepari Proserpio Angelo mi sembra un po' un po' trasparenza troppo potere l'entrata Ricciardi Egidio Ricciardi Egidio prima lì Ricciardi Egidio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.